Torna l'allarme furti in città, un fenomeno che aumenta la percezione di insicurezza nei cittadini, un fenomeno che in città si ripropone ad ondate, ma negli ultimi giorni sono sempre più numerose le segnalazioni dei cittadini di furti o tentati. L'ultimo episodio ha riguardato una coppia di imprenditori che hanno sorpreso i ladri nella loro villetta di Sant'Elia intorno alle tre di notte. Tre uomini incappucciati che sono stati messi in fuga dal capofamiglia, fuggiti poi a bordo di una BMW parcheggiata nel progetto case di Sant'Elia, come segnalato da alcuni residenti. I ladri, una volta sorpresi, sono fuggiti, ma l'amara scoperta è che erano in casa già da tempo, avevano rubato tutto il possibile. Solo qualche giorno prima era stata colpita una villetta di San Gregorio e il proprietario ha pubblicato sui social anche un video nel quale si vedono i ladri fuggire a bordo di un Alfa Romeo, che ha pure rischiato di investire il vicino di casa a causa delle folle velocità per fuggire, e questo in pieno giorno. L'anzia del proprietario di casa è stata pure minacciata, in questo caso si parla di persone con accento dell'Est, non si esclude che possa essere la stessa banda di malviventi ad aver colpito in entrambi i casi e anche in altri tentativi simili in via Bazzanesi a Gignano. Nei giorni scorsi un uomo ha tentato pure l'assalto all'ufficio postale di Poggio Picenza intorno alle otte del mattino, ma il tentativo di entrare attraverso la porta sul retro è stato sventato dall'allarme lanciato dalla direttrice. C'è molta preoccupazione per questi fatti e la gente invoca maggiori controlli. Il territorio è cambiato, la gente si sente insicura. Probabilmente sono bande specializzate che rubano auto, che poi usano per i colpi e che arrivano da fuori. Le telecamere di videosorveglianza ai cani non riescono ad essere un deterrente valido per questi malviventi. In alcuni casi i ladri sono riusciti a rubare, ma laddove non hanno portato via nulla, sono comunque ingenti i danni alle abitazioni.